Salve, sono Maurizio di Florenza, direttore marketing e commerciale dell'Ecofarm da più di 15 anni. L'azienda si trova al centro della Sicilia, siamo a 20 km dal mare. Le nostre produzioni iniziano a metà aprilie per quest'anno con il melone retato, dove noi facciamo all'incirca un 25.000 quintali di prodotto, prodotto che noi produciamo sul litorale tra Licata e Palma di Monte Chiara, con destinazione prevalentemente Italia e qualcosa in Germania. Successivamente il nostro prodotto di produzione sono le albicocche, albicocche dove iniziamo a produrle i primi di maggio fino a fine agosto e con la commercializzazione arriviamo fino a metà settembre tranquillamente. SEM è un mercato prevalentemente Italia, visto che il nostro prodotto siciliano è molto apprezzato in Italia, sia per grado Brix che per sapore e gusto. Poi continuiamo con le pesche e le noce pesche. Uva successivamente e Cacimele, che è un esperimento che stiamo facendo da 2015 e cerchiamo di portarlo avanti, sapendo e conoscendo la concorrenza spagnola.